Come si chiama? Chi è? Chi va lei? La calza di mangiamento? Oh! Oh! Ma vai! Buonasera, siamo qui alla prima partita. C'è stata la calzatorificio a Menuso contro Real Medito. Partita fin da 5 a 3. C'è qui al Duccio. E' stato l'atore di una doppietta che ha fatto sognare i suoi 3 a 3 improvviso da 3 a 0, 3 a 1, 3 a 3. Che cosa ne pensi di questa partita? Penso che hanno meritato. Sono stati più bravi. Sono più giovani. Corrono di più. Proviamo qualche chino in più. Però sul 3 a 3, ad essere sincero, ci avevamo quasi creduto che loro si stavano un attimino di smendo. Poi hanno fatto subito il quattro e quindi morale della faula abbiamo perso 5 a 3. Cosa farete per la prossima partita? Se hai qualche innesto? Io personalmente il digiunetto la settimana. Si vede perché veramente... Faccio un digiuno abbastanza. Guardiamo un po' la pancia di Aldo. Aldo l'anno scorso abbiamo almeno 15 kg meno. Eh sì. Oltre al digiuno aggiungo. Pregari anche un po' che sia già ancora di più. Sì 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 assolutamente. Digiuno e preghiera. Amen. Salutiamo Aldo, salutaci il tuo capitano. Valerio. Un abbraccio. Ciao.